benvenuti in un nuovo video di quadricottero news qualche giorno fa absan ha aggiornato la sua app di gestione dei suoi droni la absan x alla versione 3.8 per aggiungere il supporto all'ozino pro ad oggi 30 settembre questo aggiornamento è presente soltanto per i dispositivi ios per gli smartphone e device android non è ancora stata pubblicata si presume verrà pubblicata nei prossimi giorni non avendo ovviamente lo zino pro ho provato a collegare lo zino normale ma l'app si rifiuta di collegarsi se scelgo lo zino pro la sezione dell'app dedicata allo zino pro conferma sostanzialmente quello che già si sapeva e cioè che le uniche differenze rispetto allo zino normale alla fine si riconducono al segnale radio lo zino pro utilizza il segnale radio ottimizzato che si chiama leas un protocollo ottimizzato che si chiama leas che secondo absan ha un range di 4 chilometri tutto il resto rimane uguale alle funzionalità dell'ozino normale ma presumo che questo sistema leas aiuterà anche a migliorare la qualità dell'immagine perché come dicevo in precedente video lo zino normale con la versione 0.3.8 di firmware ha peggiorato notevolmente la qualità video a 4k perché in precedenza la versione 0.3.6 che garantiva una migliore qualità pare che provocava delle disconnessioni del radiocomando e quindi come dicevo in un altro video probabilmente lo zino normale è arrivato al limite del suo sviluppo motivo per cui absa ha realizzato la versione pro ma davvero il nuovo protocollo leas sullo zino pro gli consente di raggiungere i 4 chilometri di distanza ricordo che lo zino pro come lo zino normale funziona sulla 5.8 gigahertz a questa domanda e ai dubbi sollevati da alcuni utenti sulla possibilità della batteria di riuscire a fare 4 chilometri come autonomia di volo ad una velocità di 10 metri al secondo avendo l'energia anche per tornare indietro ha risposto direttamente la absa qualche ora fa pubblicando un video sul proprio canale dove si vede una prova di test range a partire dal decollo fino all'atterraggio questo video non ha una qualità eccellente comunque permette di capire quello che c'è da capire e cioè che effettivamente lo zino pro è molto superiore a livello di segnale radio rispetto allo zino normale intanto voglio ricordare che se non diversamente autorizzati le prove di test range in italia in europa e in molti altri paesi del mondo non si possono fare perché è necessario pilotare a vista se non diversamente autorizzati anche se si vola nel deserto oppure sul mare volare oltre la linea di vista del pilota è pericolosa per il traffico aereo perché ci possono essere sempre degli elicotteri o degli altri aerei a impegnare lo spazio aereo dove stiamo volando noi anche a bassa altezza con i mezzi di soccorso con gli elicotteri di soccorso e il pilota non si può accorgere se c'è un elicottero intorno al drone se stiamo volando a 2-3 chilometri mentre invece lo ascolta lo sente riesce a sentirlo a percepirlo se vola a vista quindi entro i 500 metri previsti dai regolamenti per questi motivi i test range che si fanno che superano i vola a vista non sono legali se non diversamente autorizzati dalle autorità aeronautiche inoltre voglio ricordare anche che un drone come lo zino che pesa 700 grammi se cade contro se precipita va a finire sopra una macchina sopra un parabrezza lo può spaccare con possibilità di creare un incidente automobilistico se l'auto è in movimento per non parlare delle ferite probabilmente anche gravi che può ricevere una persona se si cade in testa da 100 200 metri o più di altezza torniamo comunque al discorso tecnico delle prestazioni adesso siamo in prossimità di 1000 metri una soglia di range massimo dello zino normale vediamo cosa accade ha superato i 1100 metri sembra lo zino pro sembra non avere problemi ecco in questa situazione lo zino normale sarebbe i limiti del suo range operativo solitamente è a questo punto che scatta il ritorno a casa automatico per mancanza di segnale in questo caso siamo a 374 metri d'altezza è un'altezza notevole come ho detto prima fuori normativa così come alla distanza comunque l'altezza oltre cioè oltre 120 metri inizia essere veramente pericoloso volare a questa altezza per il traffico aereo cosa dire allora il segnale video di ritorno è difficile valutarlo perché la qualità di questo video è scarsa nel senso che l'utente ha uploadato il video in un formato in un piccolo formato che io ho provveduto ad ingrandire e quindi per la qualità video dello streaming video di ritorno bisogna attendere di provare realmente il drone a distanza siamo già a 1900 metri la batteria mi pare di leggere che è all'84 per cento siamo una velocità di 10 ms quindi 36 km all'ora questa velocità massima che si può raggiungere evidentemente con lo zino pro che è uguale a quello del zino normale tra l'altro velocità che non è stata che non rispecchia quello i valori dichiarati all'inizio perché i valori dichiarati all'inizio parlavano di velocità sopra i 70 km all'ora se non ricordo male questo anche perché la modalità sport non è mai stata abilitata realmente anche se sul radiocomando c'è il selettore per abilitarla ok siamo a 2400 metri tutto sembra procedere per il meglio 21 satelliti collegati segnale radio al massimo come si può vedere in alto e non sembra avere problemi quindi è veramente un notevole miglioramento già così sarebbe un notevole miglioramento rispetto allo zino normale comunque proseguiamo vediamo cosa accade il segnale è sempre al massimo batteria al 63 per cento non si riesce a leggere bene ecco a questo momento ha perso il segnale 4419 metri ha perso il segnale e quindi dovrebbe scattare il ritorno a casa automatico infatti è scattato ma no non è ancora scattato però il segnale è tornato comunque più di così 4.450 metri se non leggo male diciamo che siamo ai limiti più di così non riesce ad avanzare ecco adesso in questo momento è scattato il ritorno a caso automatico come si può notare a sinistra dall'icona con la freccia animata segnale va e viene però il ritorno a casa automatico è scattato 4.276 metri eravamo adesso torno indietro con la prua rivolta verso il punto di ritorno non fa ritro marcia gira praticamente il muso verso il punto di ritorno all'inizio invece faceva retromarcia quando tornava a casa cioè lo ziro normale con le versioni iniziali di firmware se non ricordo male tornava indietro nel retromarcia adesso siamo senza segnale video però la telemetria funziona ecco sta tornando indietro a 3.700 metri e sta tornando indietro la batteria è al 33% ce la farà a tornare indietro si è perso il segnale questo fatto della capacità della batteria di riuscire a fare 4 km andata in andate 4 km a ritorno per 8 km di percorso è un dubbio che ha interessato moltissimi quando hanno saputo che lo zino pro veniva dichiarato per 4 km di range siccome la batteria è la stessa dello zino normale in molti sono dichiarati dubbiosi su questa capacità di riuscire a percorrere questa distanza quindi per un totale di 8 km a vedere il livello della batteria adesso al 21% viene da pensare che non ce la faccia a tornare indietro ho nuovamente tagliato il video per evitare di farci tutto il percorso e perdere tempo inutilmente adesso siamo durante la fase di ritorno a 600 metri velocità sempre circa quasi 10 metri al secondo la batteria però è molto bassa 14% se non leggo male ho 18 non riesco a vedere bene dovrebbe essere 14 manca poco c'è da dire che la batteria cioè l'indicazione percentuale della batteria non sembra essere lineare probabilmente il calcolo dell'energia rimanente non è preciso questa imprecisione comporta che quando anche la batteria segnale al 10 per cento di carica in realtà ne ancora molto di più nonostante il drone segnali 10 per cento o meno questo fatto quindi fa sì che quando è basso di percentuale non decrementa più perché non scende di tensione come invece prevede il software di calcolo perché appunto non è preciso altrimenti a quest'ora la batteria sarebbe già terminata invece rimane ferma al 13 per cento 12 per cento poi ritorna al 13 per cento significa appunto che il calcolo dell'energia rimanente percentuale non è preciso forse sarebbe stato meglio se absan avesse inserito anche la tensione della batteria comunque siamo sulla verticale è arrivato sulla verticale adesso c'è a 330 metri da fare in discesa e quindi sembra esserci riuscito la conclusione è che effettivamente con questa prova ufficiale pubblicata da absan lo zino pro riesce a fare tutte e quattro chilometri anche di più abbiamo visto 4400 metri andare e a tornare e avere anche l'energia sufficiente per scendere di 300 metri e atterrare quindi conclusione l'absan pro ha un notevole miglioramento sul segnale radio infatti questo segnale protocollo lea se gli permette di raggiungere e superare i quattro chilometri almeno in cina bisogna vedere poi in italia cosa succede se verrà attivata una un'emissione più bassa ad esempio ce oppure no lo vedremo comunque in cina riesce a raggiungere i quattro chilometri mentre invece lo zino normale arrivava a un chilometro la batteria che è la stessa dello zino normale permette di fare questo tragitto di volo di più di otto chilometri andata e ritorno compreso all'atterraggio e se andiamo a vedere il video originale scopriamo che l'autonomia di volo dal decollo fino all'atterraggio è di circa 19 minuti poco più di 19 minuti di autonomia di volo per questo volo di test range per quanto riguarda il prezzo fino a ieri veniva venduto in preordine in siti tipo banggood a 366 euro però c'era anche la possibilità di preordinarlo con un coupon sconto e scendeva a 325 euro adesso il preordine è terminato e su banggood c'è soltanto un avviso di rientro in stock il prezzo è tornato a 366 euro non dà la possibilità di ordine e quindi la nuova domanda è è meglio comprare lo zino pro a 325 euro con coupon sconto oppure il fimi x8 a circa 380 euro sempre con coupon sconto qual è il migliore dei due? lo scopriremo appena ci arriverà l'hub san zino pro e riusciremo a fare il confronto con l'x8 per adesso vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video di quadricottero news un saluto a tutti